che cos'è calzone 2 calzone 2 è una giovane start up nata nel 2016 composta da me che sono ideatore e fondatore e da nadia che si occupa dell'amministrazione e della comunicazione noi ci occupiamo di calze anti spaiamento le facciamo produrre a brescia da chi di calcio se ne intende da oltre 60 anni ce le fa ce le produce abbiamo un prodotto industriale e lo vendiamo il marchio è nostro il brevetto è nostro e noi produciamo questo le calze anti spaiamento per eccellenza le uniche che funzionano davvero un saluto da andrea